Amici di Marcosbox, benvenuti in questo quattordicesimo episodio del podcast di Marcosbox Cominciamo la settimana parlando di Fedora C'è stato il rilascio di Fedora 30 L'edizione principale di Fedora 30 vede l'arrivo di Gnome 3.32 Che è l'ultima versione del famoso desktop environment Che adesso praticamente troviamo anche su Ubuntu Anche se Ubuntu è molto customizzato In questa release, come ben saprete, di Gnome ci sono dei miglioramenti delle prestazioni E c'è anche un restaring dell'interfaccia utente dell'icona di sistema Che, diciamo così, l'hanno un po' svecchiato Ovviamente sono presenti le ultime componenti di Mesa, i kernel Linux, Ruby, Grib, Bash, GCC e quant'altro Oltre a questo troviamo i consueti aggiornamenti dei vari desktop environment Che compongono le spin ufficiali di Fedora Novità però di questa versione 30 di Fedora E che oltre alle spin ufficiali con i vari desktop environment Troviamo presente nei ripositori di Fedora 30 Per la prima volta sia D-Pin Desktop Environment che Pantheon Desktop Non ci sono le ISO ufficiali Quindi non ci sono le ISO dedicate Non possiamo provarli in live O installare direttamente l'edizione che più ci è grada con D-Pin o con Pantheon Dobbiamo installarli manualmente Sul blog ho pubblicato due guide Una che illustra come installare Pantheon Desktop su Fedora 30 E l'altra che illustra come installare D-Pin Desktop Environment Per quanto riguarda Pantheon su Fedora 30 Ci sono ancora dei bug Bug che riguardano alcuni componenti che non funzionano correttamente Switchboard, plug, datetime Anche quello lì per quanto riguarda la gestione dell'alimentazione E altre cose C'è anche per esempio un problema con LightDM Nel senso che lo sblocco dello schermo E il salva schermo funzionano soltanto se si utilizza la sessione Pantheon su LightDM Se utilizziamo GDM questa qui non funziona C'è anche un altro problema per quanto riguarda Pantheon Mail Pantheon Mail fra le dipendenze a WebKit GTK 3.0 Una libreria che è stata giudicata obsoleta Ed è stata ritirata da Fedora Per annessi problemi di sicurezza Quindi di conseguenza Pantheon Mail non può essere compilato su Fedora 30 E comunque sviluppo un porting di Pantheon Mail Alle WebKit 2 GTK 4.0 Quindi si spera a breve Sarà possibile installarla anche con l'ultima release di Fedora L'installazione è molto semplice Prevede sostanto l'installazione di un gruppo Il gruppo Pantheon Desktop Che si va a portare dietro tutte quante le dipendenze Tutte quante le applicazioni che compongono Pantheon Desktop Però per i suscitati motivi Vi sconsiglio l'utilizzo fino a quando non sarà tutto risolto In seno a Fedora Speriamo che vengano risolti quanto prima questi problemi Magari mettetevi su una macchina virtuale Per quanto riguarda invece Deepin Desktop Environment Non ci sono problemi Aggiorniamo il sistema Instaliamo Deepin Desktop Instaliamo le varie applicazioni E godiamoci Deepin Desktop Environment Su nostra Fedora 30 E' presente anche una ISO non ufficiale Che consente di poter provare Fedora 30 con Deepin Desktop Environment Senza installare il tutto L'unico problema è che appunto questo ISO non è ufficiale Ed è comunque un po' vecchiotta Perché è stata aggiornata l'ultima volta Se non ricordo male a marzo Quindi è uno strumento in più Però diciamo così è una via di mezzo Non è aggiornata Quindi non ci sono le ultime versioni dei pacchetti e quant'altro Speriamo che quanto prima Queste due desktop environment Possano beneficiare delle spin ufficiali Quindi con le ISO ufficiali Così come accade per KDE, XFCE, MATE e Cinnamon Passiamo adesso a parlare di Ubuntu Come ben saprete Ad ogni resi di Ubuntu Viene associato un aggettivo, una parola o quant'altro E' abbinato un animale Ubuntu 19.10 E' stato annunciato E' stato aperto il ciclo di sviluppo di questa nuova versione di Ubuntu Però non è stato ancora annunciato il nome dell'animale L'unica cosa che sappiamo è che si chiamerà EOAN qualche altra cosa Quindi speriamo Eagle o una cosa del genere E' possibile scaricare quindi fin da adesso Le ISO daily Della nuova versione di Ubuntu Ci sono alcune notizie Per quanto riguarda quello che troveremo Si sa che avremo GCC 9 Avremo Python 3.7 come predefinito La versione 3.8 disponibile negli archivi Avremo OpenJDK11 come predefinito Però negli archivi saranno presenti anche la 8 e la 13 E avremo probabilmente o il kernel Linux 5.2 o il 5.3 Misa 19.2 E come versione di GNOME la 3.34 Queste sono le uniche certe fino adesso Speriamo che vengano aggiornate Vengano date notizie quanto prima su tutto il resto Su le novità che vedremo insomma sulla prossima Ubuntu Il cui rilascio è che dovrebbe venire il 17 di ottobre Quindi metà a metà mese Restando sempre in ambito Ubuntu Dell ha annunciato il rilascio La commercializzazione con disponibilità globale Di due nuovi portatili equipaggiati con Ubuntu 18.04 LTS Sono due portatili della serie Precision Il Dell Precision 3540 Mobile Workstation Developer Edition E il Dell Precision 3541 Mobile Workstation Developer Edition Sono con Ubuntu 18.04 preinstallato E hanno comunque la certificazione per far girare Red Hat Enterprise Linux 8.0 Il primo, il 3540, è disponibile fin da subito Per il mercato nostro abbiamo soltanto una configurazione Il 3541 sarà disponibile più avanti nel mese di maggio I prezzi I prezzi sono importanti Ma non sono nemmeno poi tanto elevati Il 3540, che vedremo commercializzato in Italia È già presente È nell'edizione con i5-8265U Che è un quad core AMD Radeon Pro WX2100 Con 2GB di RAM DDR5 8GB di RAM DDR4 A 2400MHz SSD SATA M.2 classe 20 Da 256GB Display full HD 1920x1080 Non touchscreen Quindi la variante, diciamo, quella normale Però a trattamento antiriflesso È un 15,6 pollici Diciamo che è un ottimo display Non mancano le connettività Wi-Fi, dual band, Bluetooth 5.0 E altre cosine qua e là Come le porte Thunderbolt La batteria è una batteria a 3G da 51VH Compatibile con Express Charge Il prezzo nella variante con Ubuntu È di 937,07€ Ripeto È un prezzo Non è molto elevato È comunque un prezzo importatile Di più importatile è un prezzo elevato Rispetto a quelli che troviamo commercializzati Nelle grandi catene di distribuzione Però comunque qui siamo su un livello di qualità Più elevato E abbiamo comunque delle caratteristiche tecniche Che consentono che utilizzo appunto Come se fosse una vera postazione di lavoro Ecco perché è una workstation Quindi è un ottimo prodotto Se avete la possibilità economica Fateci un pensierino Se volete regalarmela Sapete dove trovarmi Allora Passiamo adesso Alla derivata principale di Ubuntu Che è Linux Mint Lo scorso mince Se eravamo lasciati Con uno sfogo di Klem Per quanto riguarda il ciclo di sviluppo C'erano stati alcuni problemi Klem è tornato nuovamente sull'argomento E ci ha tenuto a precisare Che non c'è nessuna emergenza Sviluppatori, abbandoni e quant'altro Era soltanto uno sfogo I problemi che ci sono Comunque verranno risolti In tempo per il rilascio Della prossima verità di Linux Mint Crema ancora qualche incertezza Da parte sua sul sito web E sulla riprogettazione del logo Diciamo così Ci do anche un po' ragione Perché comunque i logo di Linux Mint Se lo portano avanti da un bel po' Quindi abbandonare il vecchio logo Per uno nuovo Per chi Per chi è affezionato Per chi Ha un progetto che lo porta avanti Da tanti anni Comunque E' sempre una cosa dolorosa Non so qualcosa Nel corso degli anni Ho cambiato logo Ci sono stati dei problemi Per quanto riguarda I server Sono stati risolti Erano stati causati Da alcuni problemi di alimentazione In uno dei datacenter utilizzati E' stata rilasciata La guida per gli sviluppatori Che spiega come impostare Creare pacchetti Testare le versioni alfa E tutto il resto Quindi Se siete sviluppatori E volete contribuire A Linux Mint Potete scaricare questa guida Anzi Dovete scaricare questa guida Mint 17.x Ha raggiunto lo stato di End of life Quindi Sebbene i repository Continueranno a funzionare Non ci saranno più Aggiornamenti di sicurezza Quindi E' l'occasione buona Per chi ha Linux Mint 17.3 Che era l'ultima versione Di installare time shift Dai repository Preparare un istantaneo di sistema E pianificare l'aggiornamento A Linux Mint 18 C'è presente All'interno del blog Un link Che vi spiega come fare Poi c'è stato Tutto un discorso Che Crema ha fatto Riguardo a Samba Samba Porta problemi Porta problemi Su qualsiasi distribuzione I problemi Vengono comunque Diciamo così Attenuati Sulle LTS Ci sono accorti Che sulla 18 Sul ramo 18.x Con Samba 4.3 Diciamo che così E' quello che Da meno problemi Continua a funzionare bene Ci sono stati Aperti diversi bug Riguardo Però comunque Diciamo così Se Il consiglio del dato Claim Alla fine della fiera E' che Se utilizzate molto Samba Consiglia di utilizzare La versione 18.3 Di Linux Mint Fino a quando Questi problemi Non saranno risolti Anche nella 19.2 Nelle future Rays Ha fatto anche Alcune considerazioni Sul pacchetto Nemo Share Nemo Share Che questo pacchetto E' un pacchetto Di Linux Mint Che fa diverse operazioni Installa Samba Aggiunge l'utente Al gruppo Samba Share Per il corretto Funzionamento Di Samba Crea il condiviso Nella verifica E correggere Eventuali problemi Di permessi E quant'altro Nella versione 19.2 Di Linux Mint Questo pacchetto Farà anche di più Perché Una volta installato Va ad aggiungere Le regole Al firewall Per farlo funzionare Con UFW E poi Ci saranno Altri problemi Che consentiranno Di risolvere Alcuni problemi Nell'utilizzo Di Alcune Ci saranno Alcune Soluzioni Che verranno adottate Da questo pacchetto Per correggere Alcuni problemi Nell'utilizzo Di Samba Poi è stato Anche Aggiunto Un'altra nuova Funzionalità A Nemo Per quanto riguarda La barra Degli strumenti Di Nemo Quando ci trovavamo In network Network Nella radice Insomma Della rete Che c'erano problemi Non si poteva tornare indietro E' stato risolto Anche questo problema E Sempre Stando a quanto Viene detto Dal team Di Luxmint Alcuni Di questi Cambiamenti Potrebbero arrivare Anche Su Kaya Share Che sarebbe Lo stesso pacchetto Che Che però Funziona con Kaya Il file manager Di Mate Desktop Il rilascio Nella prossima versione Di Linux Mint Non è ancora Deciso Quindi Sotto quel punto di vista Ancora non si sa niente Concludiamo la settimana Parlando Di Due nuove applicazioni Che sono state Rilasciate Da uno sviluppatore Indipendente Che però Ha scritto In passato Del codice Per Elementario S Per alcuni applicativi Per Elementario S Ha deciso Di Lavorare A due nuovi software Spreadsheet Un foglio di calcolo E Writer Un editor Di testo Entrambi queste applicazioni Sono sviluppate In Vala E GTK Plus E sono pensate Per adattarsi al meglio All'Elementario S Quindi Rispetto a nuove linee guida Di Elementario S Per quanto riguarda I menu Le icone E quant'altro Dov'è il problema Il problema è Ho postato la notizia Perché l'ho postata Anche perché Su suggerimenti Di alcuni miei amici Guardando Quelle due cose Messe in croce Fatte da questo programma Dove Perché Guardate bene Questi non sono Dei programmi Che vanno a sostituire I libero office Perché non hanno ancora Tutte le funzionalità Di libero office Ovviamente Però Per come sono stati approcciati Per come sono stati strutturati Nell'interfaccia grafica Hanno comunque Già un Un funzionamento Che Diciamo così È più Un'interfaccia Che è più funzionale Rispetto A Libre office Secondo alcuni Permetto di dire Perché Secondo me no Perché Sono ancora troppo a scarni Però Alcuni hanno reputato Queste interfacce Decisamente migliori Rispetto a quelle Adottate da Libre office Ci sono altre soluzioni Simili Diciamo così E appunto Alcuni si chiedevano Come mai È possibile Che Alcuni sviluppatori Indipendenti Riescano a fare Cose Da soli Cose di questo tipo E Non ci sia Un lavoro Pesante Di crevstining Dell'interfaccia Su Libre office È una polemica Che ogni volta Viene rilanciata Su Libre office Da diversi Da diversi utenti Che utilizzano La suite D'ufficio Altri se la fanno piacere Così com'è In effetti Non è tanto malvagio Com'è Come adesso È un po' Old style Però Diciamo così È funzionale Specie con La nuova interfaccia Quella Quella schede Che io utilizzo Sulle distribuzioni Però GTK Perché ho provato Questa interfaccia Schede Su KDE Con le QT Lì la situazione È molto brutta Diciamo così Perché non si integra bene Il menu Sembrano molto Molto Le schede Sembrano molto Molto anni 90 E quant'altro Comunque Se volete contribuire A questi due software O magari volete Complicarveli Installarveli Sul blog Trovate I link A entrambi i progetti Che sono stati Su GitHub Magari lasciatemi Un commentino Sotto Perché Era partita Una mezza discussione Con qualche commento Appunto Riguardante La necessità L'opportunità O meno Di Per gli sviluppatori Di mettersi Di buttarsi In progetti Di questo tipo Anziché magari Che ne so Contribuire Direttamente Al software principale Io Come sempre Penso che Sì È un punto di forza Questo qui Del software libero Il fatto Il fatto Che ogni utente Può Contribuire Può Reinventare La ruota Mettendoci Del suo Alcuni Dei progetti Che tuttora Vanno avanti Sono nati Così Come alternative E poi Si sono imposte Nel tempo Però Per applicativi Complessi Come appunto Le suite Da ufficio A mio avviso Sarebbe più opportuno Una collaborazione Con i team Di sviluppo Per poter fare Un redesign Io Personalmente Auspico Che In LibreOffice Arrivi Prima o poi La decisione Di investire Nell'interfaccia Grafica Magari Creando Un design team Visual design team Così come è avvenuto Che ne so Per KDE Al fine Di poter Metter mano Tutto il codice Dell'interfaccia Grafica Di LibreOffice Per poterlo Poterlo rendere Più Più appetibile Perché C'è sempre Il solito discorso Molti Guardano L'interfaccia Di LibreOffice E stoccano Un po' Il naso Perché dicono Eh E' bruttino Anche se Ripeto La nuova Interfaccia Schede Con le nuove Icone Di sia Della 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 applicazione Che Diciamo Dei vari Dei vari Pulsanti Che sono Presenti Sul tema Di icone Per Windows Io li trovo Molto carine Non mi piacciono Viceversa Quelli che sono Stati adottati I temi di icone Che sono stati Adottati Sia per KDE Che per Le GTK Non lo so Mettere Le icone Di elementare OS Per Per Interfaccia Grafica Come scelta Predefinita Se noi andiamo A installare LibreOffice Su una distribuzione GTK Non mi piace Io avrei preferito Magari Che avessero Impostato Qualcosa Di più neutro O magari Avessero mantenuto Che ne so Le icone Di Quelli lì Che sono presenti Per la variante Per Windows O Quelle più neutre Che sono state Rilasciate Con il tema SIFIR Non mi piace Non mi piace Quelle icone Elementari Non mi piacciono Nemmeno Quelle icone Per Per quanto parte QT Per KDE Un po' Gusti Sono sempre gusti Poi Magari Fatemi sapere voi Se siete Concordi O meno Vi lascio Questa Questa settimana Prima di Lasciarvi Apro e chiudo Una piccola parentesi Vi ricordate La faccenda Del telefonino Che ho portato In assistenza A Xiaomi Anche questa settimana È passata E non mi hanno fatto Sapere niente Quindi Speriamo che Alla prossima settimana Mi ritorni Per adesso Assistenza Xiaomi Italia Completamente Bocciata Bene Con questo Concluso Lunga vita e prosperità A tutti quanti Ci vediamo Alla prossima settimana Con il podcast Di Marcos Box Ciao ciao